E bello a tutti ragazzoni benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Franco Bolle e oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video, in questo nuovo gioco, in questo nuovo tutto, in questo nuovo episodio, non lo so, in questa nuova serie, mamma mia. Supermarket Simulator sta andando un bordello di moda nell'ultimo periodo, quindi lo portiamo anche noi ovviamente. L'ultimo video è stato di FC24, quindi se l'avete perso andatevelo a recuperare e intanto iniziamo quindi questa nuova serie di Supermarket Simulator, nuova partita, yes, non so cos'era. Va bene, allora, avevo un po' studiato già come funzionava un pochetto il gioco e qua bisogna andare su Twitter, mi pare, mercato e comprare tipo, non lo so, abbiamo 50€ di budget, allora io direi di comprare un po' quelle cose meno costose. Questo, 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 basta, ah no, ok perfetto, questo qua no perché lo spesi pare, me l'ho scordato. Eh, ok, qua tipo dovrebbero arrivare i pacchi, ecco, ora questo qua si apre, ecco, e poi si dovrebbe tipo mettere così sugli scaffali, per poi, e questo qua si ta, e si fa così per tutti gli ingredienti. Però dobbiamo mettere il prezzo, raga, eh, mi hanno aggiunto due di farina per sbaglio, questo dovrebbe essere il pane, eh, olè, perfetto. Ora mettiamo i prezzi e possiamo ufficialmente aprire il nostro negozio. Allora, 3,96 è il prezzo di mercato, allora qua il prezzo di mercato è 3,71, allora metti qua. Eh, questo qua il prezzo di mercato è 4,83, allora metti qua. Ok, possiamo aprire questo nostro mercato. Ora noi dovremmo stare alla cassa che fa. Ah, ecco, quando arriva una signora, poi io dovrei cliccare. Là c'è scritto il totale, quindi 5 dollari, come mi dice il resto da darli, 40, eh. Ah, li potete dare alla banconata 5 dollari, ma nello stesso, poi spazio per confermare. Quindi eccoci fatti i nostri primi 5 dollari, perfetto, raga, mamma mia. Ecco qua un altro nostro cliente, vediamo, con la carta lui paga, quindi 9, dobbiamo cliccare 9 e poi questo. Perfetto, altri 9 dollari fatti, mamma mia, raga, stiamo già avanzando, troppo forte. Poi così, così, 9 euro, 91, eh, la madre, eh, vada. Poi, no, c'era tipo il tastino, vabbè, della luce, quando è sera. Ah, eccolo, ecco, visto, c'è pure la luce. Qua non so se magari in futuro sbloccherò qualcosa, però non ce l'ho arrivato manco nell'altro, l'avevo fatto, in cui in realtà ho giocato, però vabbè. Zero di resto può andare, signore. Ovviamente quando voglio che magari mi mancano dei prodotti, posso fare o closet o... Eh, vabbè. Lui cosa vuole? Un pacco di zoo. Ok, 5 dollari, quindi. Ecco lei, vada, vada. Ok, ecco già i soldini che... Qua la gestione c'è, ci sono licenze di prodotto, o shawl. Allora, già potrei comprare questi qua, che sono tipo cereali, mi pare. Ecco qua, ricorre con sci, ma io scuola. E olè, così qua, però dobbiamo mettere il prezzo. 2, eh, 5,96 per guadagnare. Allora, che vuole lei? Ecco qua, 9 dollari, grazie. Vada, vada. Poi, se non mi sbaglio, appena arrivo al livello 10 del negozio, che sta in alto a sinistra... Cioè, a destra, scusate. In alto a destra, che c'è il livello del negozio. Appena arrivo a 10 dovrei poter comprare tipo il cassiere, mi pare. Quello che fa entrare... Non lo so. Ecco che intendo che arriva una signorina. Dai, dai su che voglio i soldi, io voglio i soldi. Nel registratore cassa voglio totale 20.000 dollari. Eh, adesso. Non mi sbagliare. Allora, quanto è con la carta? 10 e 10, quindi 10, tu 10. La vuole, eh? Ok, questa qua vuole farina. E poi? Cereali. No. 8 dollari, 12 dollari li devo dare. Ecco lei, può andare. Perfetto, boys. Ora, con questi soldi posso comprare 2, olio e pasta. Una cosa abbastanza importante di questo gioco è che non bisogna mai farsi mancare gli ingredienti. Perché se no ci spaccano e le recensioni si abbassano. Ecco la pasta, mi pare. Mettiamo i prezzi e poi andiamo a pagare a quello là. 4.50 e metti 80. Qua, 3.12. Ok, che vuole lei? Perfetto. Con 10 e 10. Qua, eh, vada. Ehi signora, la farina, ok? 4 euro, devo dare 6 dollari. Di resto. Vada. Perfetto. Ecco infatti, raga, che siamo a 21 dollari. Prima eravamo a 40. Ecco altri due nuovi cosi. I nuovi clienti. Ok, 4 euro per la carta. Vai a cagare. Eh, cioè, volevo dire. Torni al più presto possibile. 4 dollari e un dollario di resto. Vada. 4 dollari, dai, ci stanno. Mi ha dato una buona notazione. Ah, bene. Allora, siamo già a livello 2 intanto, ragazzi. Che mi ho accorto ora. Quindi, vediamo cos'è che sta per finire. Ancora. Poi, verso le 9 del pomeriggio. Cioè, della sera. Ma vabbè. Dovrei poter chiudere il locale. Ovviamente, raga, dopo tipo le 6, 6 e mezza aprirò la Lucca. Vabbè. Comunque, questo gioco lo trovate su Steam. Eh, va a pagamento. Eh, è nulla. Purtroppo non è uno sponsor. Non ho pagato, però mi sono bloccato. Ah. Allora, 2 pasta e una farina, eh. Minchia, devi fare la pizza. 11 dollari. Può andare. Eh, abbiamo raggiunto i 40 dollari oggi. Salve, signore. Ah, che bella via. Eh, flesso, cioè. Eh. La grafica di sto gioco non è nemmeno troppo. Sono le 5 del pomeriggio. Il sole se ne sta per andare. Ecco, infatti, che mi splende addosso. Grazie. Oddio, mi scusi, sì. Eh, 15 dollari. Eh, sì. Grazie mille per il resto. Pure a lei. Altro dollari. Abbiamo superato i 50 che avevamo all'inizio. Sì, ragazzi. Allora, quindi abbiamo già i primi 10 dollari di oggi. Questi qua, 14,10. 3. Vada, signore. Sono le 6. Inizio ad aprire la luce. 6. Vabbè, sono qua. Ecco qua il rosso tramonto. Vediamo se si vede. Magari. No. Perfetto. Torniamo al nostro negozio. Prima che c'è. Salve. 13,60. Ecco, perfetto. Ah, ci sono gli obiettivi a sinistra, comunque. Che sono. Servi clienti. Per ora ci abbiamo serviti 19 con questo qua. Più accendere la luce che l'avevo usato. 19 clienti. Ecco, un po'. Tutorial. Vedi che l'ho già accesso. Venga, venga, signore. Venga. Tanto ancora sono le 8. Ancora per un'ora siamo aperti. Anche un po' di più perché poi è il tempo che arrivano le ultime persone. Dai. Perfetto, grazie. 6 euro di resto. Può andare. Arriva lui. Ovviamente, raga, quando se ne vanno, magari qualche volta arriva tipo un messaggino sopra la loro testa che mi danno. Sì, ok, quara. Utre, quattro. Vada. Magari poi in futuro ve lo farò vedere. Oh, abbiamo già raggiunto i 120 euro. 127,58 per la decisione. Ci sta. Buono. 8,80. 1, vada. Due pacchetti. E olè. Via. Ok, possiamo finire il giorno? Ecco, vedete. Premi, enter per finire. Vediamo. Penso di stati 23. Eh? Il profitto è stato di 98 euro. Godo. Eh, cioè, bollette giornaliere? Ah, è vero, raga, è vero. Qua le tariffe, le fatture. Eh, sì, ogni giorno le dovrò pagare. Eh, vabbè, ragazzi. Ok, possiamo aprire. Intanto mi compro zucchero, farina. Per ora. Ok. E basta, per ora è questo. Acquisto. L'olio. Acquisto. 22 euro e 22. Andate. Lo finisce sempre tardi. Qua, raga, li lascio qua perché non mi va ad usare un altro scaffale. Ecco, lo stesso vale per oggi. Metti sopra. Ecco qua, magari pure il pan. Sì, signore. Ho la carta per 6 euro e 10. Non mi pareva tanto il caso, ma va bene lo stesso. Un dollaro di resto. Arriva tanto qua. È arrivato il pan. E ora. Aspettiamo gli altri clienti. Ecco qua un altro cliente. Vediamo cosa vuole acquistare dell'olio. Salve. Zero di resto. I gentili, quelli che mi danno zero di resto. Non li devo dare nulla. Sì. Allora, c'è tipo una licenza. Ecco, una licenza di acquistare altri prodotti. Ecco, tipo le uova, latte, te nero, acqua in bottiglia. Solo che per questo, raga. Bello. Ah, è vero che c'è quel del mercato che... Cioè, del supermarket che tipo... Ecco, grazie per... Tipo, si espande. Poi ci stanno anche i fighi. Dovrei comprare. Prima di comprare l'altro. Ecco. Aspettiamo i 379. Mi hai dato un pezzo. 22. Ecco. Aspettiamo quindi, raga, che 375 euro. Però nulla. Se è per massimo il gen. Perché ho scoperto. Vediamo... Ok, vediamo qua. Intanto, ecco la carta di 9 e 60. Perfetto. Allora, 17 e 60. Grazie per l'acquisto. Siamo già a 200 euro. Quindi il primo frigo già lo potevamo comprare. Però vabbè, raga. Andremo avanti. Vada. Ecco, vedete? Non riesco a trovare l'olio. Però io, raga, devo risparmiare per il frigo. Allora. No, raga, ok. Raga, prima bisogna comprare il frigo. Eh sì, raga. Eccolo qua. Allora. Mettilo qua. Perfetto. Allora, fai qua. E in più dobbiamo farci qua il cogo. Questo. Allora, vediamo qua intanto. Dei altri soldini. 8 euro. Perfetto. Metti il pane. Allora, scusatemi di un'attesa. Zero di resto. Grazie mille. 10 cereali. 2 doll. Vada a fare. Arrivare a 60. Acquisto una licenza del prodotto usando un aspetto. Altri soldi. Vada a fare. Vabbè. Ok. Salve. No, sono stupido. Dai, andate nel testo a fare. Che fastidio. Vabbè, non lo posso mangiare. Peccato. Va bene, lo stesso. Ora. Oh no, c'è il cliente qua. Il bro che mi aspetta. C'è assolutamente un'eserio. Schiocca. Vabbè, a posto. Io solo sposto. Allora. Perfetto. Lei cosa ha preso? Perfetto. Qua. 8 euro. Può andare. Dura a luci. Perfetto. Signore, ok. Lei vuole comprare qualcosa. Perfetto. 2 e 40. Vada. 7. Qua. Perfetto. Lei. Zero. Lei invece qua. 2 dollari. Vado. E mi sa che la giornata qua è fude. Go. Poi raga che ho finito. Guarda, io dovevo chiudere il locale. O se siete voi a rompere, guarda. Ok. Buo. Arrivederci. Insoddisfatti. I prodotti sono trovati solo due. Che comunque ci sta. Profitto totale. Meno 63 perché ho acquistato il frigo. E ci sta. Stare. Apri intanto qua. Soldi. Pane. Che ho fatto. Ecco fatto. Aspettiamo. Bro qua. Potrei chiedere un prestito alla banca. Però non mi va. Le casse sono piene. Ho fatto per sbaglio. Eh. Che sì. Che la cosa non stavo capendo. Le casse. 3 dollari. Perfetto. Ancora non ce l'ho la next lane. Che sarebbe l'altra corsia. Non della pista. Eh. Della cassa. Perfetto. Grazie. 5 dollari. 7 dai. A 200 possiamo comprare licenza di prodotto. Quanta? Vada. Olio. 9,60. Grazie. Siamo a 100 dollari ragazzi. A 100 dollari. Possiamo acquistare la licenza di comprare. Wow. Eh. Cavoli vari. Raga. Io direi che questo qua è l'ultimo giorno. E poi possiamo chiudere qua per oggi. Siamo arrivati tra oggi a 200 euro. A posto. Penso se no la prendiamola. Questo è proprio un gioco che mi piace. Eh vabbè rancheremo. In chiamato che siamo su ProStars. Aspetta vada vada. Ma se nel mentre che te l'ho comprato. Eh quante cose sta comprando. Ah grazie. 1,40 euro. Dai ragazzi che ancora sono le 3 del pomeriggio e siamo a 100 soldi. Quindi è possibile che ci arriviamo per la licenza di prodotto. Sicuramente non me ne frega più di tanto se manca qualche ingrediente. Cioè dovrei acquistare farina, olio, pasta. Sì sì ragazzi. Allora farina, farina, pasta e olio. Ok eravamo arrivati ai 200 però ragazzi. E' un ingrediente importante. Perché tanto con la licenza sprecavamo tutti i soldi e quindi poi non potevamo comprare con la licenza. Ma appena ci arriviamo che tanto. Grazie. Ecco vedi. Già ce l'abbiamo, ce li siamo fatti grazie a qua. Ecco 190. L'olio. Dai mo l'avevo messo bro te lo potevi prendere. Entra? Sì altri soldi. Dove ci potremmo prendere finalmente questa licenza. Per finire il pane. Prossimo acquisto. Grazie mille per l'acqua. A posto dai compi. Gestione. Licenza del prodotto. Questa licenza per riuscire a vendere questi prodotti. Acqua, caffè, tastatura, forza. Uova, confezione da 8, latte. Perfetto. Ah no. Grazie. 40. Sono io un cambio. Credo. Accendiamo la luce. Ora sul mercato. Ecco si sono aggiunte delle cose raga. Quindi i prossimi acquisti sono. Acqua che bisogna mettere infatti. Formaggio, tostatura, va bene. Poi uova, latte, tene. Ecco quanto costa ora raga. Faremo bello. Quindi aspettiamo i 178 euro per il prossimo. E lo facciamo bello totale. Le uove da confezione da 8. Ancora non mi arrivano. Cioè scusate. Ho detto ancora mi devono arrivare. Eh raga qualche volta il calabrese. Eh vabbè può capitare. Scusate. 37 può andare. Raga fra un po' il video. 9.6 grazie mille. Te forma. Sì 40 magari. Ma io posso. Comunque ecco qua il giorno raga che finisce. Il profitto è stato di 26 euro. E quindi niente raga. Questo video è tutto. La qua raga. Sopra questo istintore. Perfetto. E nulla raga. Spero che il video. Primo episodio di Supermarket Simulator. Vi vi è piaciuto. E niente. Vi ricordo di lasciare un bellissimo piace. Il video è finito. Andate in pace. Quale F5 non c'è quindi. Bella raga. Ciao.